Sia lodato Gesù Cristo, in nomine Patris et Filii e Spiritus Santi, Amen, Maria Sede Sapientiae, Ora Pronobis. Ben ritrovati, carissimi fedeli, per questo commento al Vangelo della Domenica. Domenica prossima è l'ottava, domenica dopo la Pentecoste, e il Vangelo è quello di San Luca, capitolo 16, versetti dall'1 al 9. In quel tempo disse Gesù ai Suoi discepoli questa parabola. Un uomo ricco aveva un amministratore che gli fu denunziato come dissipatore dei suoi beni. Egli lo chiamò e gli disse, che cos'è che sento dire di te? Rendi conto della tua amministrazione, perché non potrai più amministrare? L'amministratore disse allora tra sé, che cosa farò, ora che il mio padrone mi toglie l'amministrazione? Di zappare non ho la forza, di mendicare mi vergogno. So io che cosa farò, perché quando sarò rimosso dall'amministrazione, ci sia chi mi accolga in casa sua. Fece venire ad uno ad uno i debitori del suo padrone, e disse al primo, quanto devi il mio padrone tu? Quello rispose, cento barili d'olio. E lui, prendi la tua ricevuta, siedi, presto scrivi cinquanta. Poi disse a un altro, tu quanto devi? Quello rispose, cento misure di frumento. E lui, prendi la tua ricevuta e scrivi ottanta. Alla fine il padrone lo dò, quell'inicuo amministratore, per aver agito con scaltrezza, poiché i figli di questo mondo sono, nell'agire con i loro simili, più scaltri dei figli della luce. Ebbene, io vi dico, procuratevi degli amici con la ricchezza inicqua, affinché quando veniate a mancare, essi vi accolgano negli eterni padiglioni. Sia lodato Gesù Cristo. Carissimi fedeli, che bella questa parabola che il Signore ci ha narrato in questo Vangelo. Si parla di ricchezza, si parla di ricchezza disonesta. La ricchezza di questa terra, il Signore la definisce disonesta, a prescindere. In effetti è proprio così. Non esiste una banconota, non esiste una moneta di metallo, non esiste un conto corrente, non esiste una moneta virtuale, che non sia in qualche modo marchiata dal segno del peccato, che sia frutto di peccato, di ingiustizia, di oppressione, di piaceri disonesti e di imbrogli, eccetera, di tante altre cose. Si può dire proprio che la ricchezza di questo mondo, anche i beni, diciamo immobili così, abbiano alla loro origine sempre qualche cosa che riguarda il peccato, la parte meno nobile dell'uomo. Quindi il Signore la chiama disonesta ricchezza. Il tema è quello della ricchezza, di come utilizzarla, di come utilizzarla per raggiungere i padiglioni eterni, cioè le dimore eterne. Tabernacula, dice in latino. Eterna tabernacula, i padiglioni eterni. Quindi dice il Signore, vedete, guardate i figli di questo mondo, cioè coloro che non vivono di fede, ma vivono abbarbicati a queste sicurezze materiali. Guardateli, quanta scaltrezza hanno, quanta astuzia mettono, quanto impegno per guadagnare delle ricchezze che oggi non le appartengono, perché non sono loro e non saranno per sempre loro. Sono ricchezze passeggere, sono ricchezze che sono sottoposte alle fluttuazioni dell'economia, eccetera, e comunque passeggere. Oggi li hanno, domani non li avranno più. Ebbene, quanta astuzia, quanti impegno, quanta fatica, ecco, per ottenere questo. Mentre non sono abbastanza astuti e scaltri i figli della luce. C'è questa contraposizione. I figli di questo mondo sono coloro che si fidano dei beni terreni. I figli della luce sono coloro che invece si affidano alla parola del Signore, al Signore. Ecco, non sono abbastanza scaltri, non sono abbastanza astuti. Cosa dovrebbero fare i figli della luce? Dovrebbero, con questa parabola ce lo dice, guadagnarsi degli amici, farsi degli amici, che poi li accolgano in paradiso. In che modo? Che tipo di amicizia è? È la carità. La ricchezza di questo mondo, per quanto disonesta sia, e porta a questo marchio del peccato, se tu lo utilizzi per fare carità al prossimo, agli altri, e questa ti può fruttare una ricchezza dell'altro mondo, cioè una ricchezza della vita eterna. Va utilizzata bene. Come utilizziamo la ricchezza? Pensate, dice il Signore in questa parabola, che addirittura quel padrone dovette alla fine lodare questo amministratore disonesto, nonostante gli avesse portato via una quantità ingente di denaro. Alla fine ha dovuto persino lodarlo, perché era stato troppo furbo e troppo astuto per la sua astuzia. Magari fossero tutti così astuti e furbi nell'utilizzare con carità e per amore del prossimo i beni di questa terra. Si guadagnerebbero le dimore eterne. Bella questa parabola nella quale, carissimi fedeli, veniamo indicati noi. Siamo noi questi amministratori. Tutti noi siamo amministratori dei beni del padrone. Il padrone è Dio. È Dio. I beni che possediamo materiali non sono effettivamente nostri, ma li ha messi Dio a nostra disposizione. Non ci appartengono veramente. Attenzione. Non siamo i padroni. Il padrone resta sempre Dio. Noi siamo gli amministratori. Se li utilizziamo bene, li troviamo moltiplicati nell'eternità. Bene vuol dire la carità. Non è un caso che qui si parli di ricchezze al capitolo 16. Del resto anche al capitolo 15 aveva parlato di ricchezze San Luca. Cosa troviamo nel capitolo 15? Troviamo la famosa parabola del figlio prodigo, il quale aveva chiesto la sua parte di beni al padre e poi se n'era andato per spenderli in maniera dissoluta, per cadere nel peccato, quindi per rovinare se stesso sia dal punto di vista fisico, perché si era ritrovato a mangiare delle carrube quando si mise a servizio di quell'allevatore di porci, ma sia anche dal punto di vista spirituale, perché stava perdendo la sua anima lontano dalla casa del padre. Quindi vedete cosa possono fare le ricchezze. In questa parabola il Signore ci dice andrebbero utilizzate bene, con astuzia, con lugibiranza, con impegno, con scaltrezza. Abbiate la stessa scaltrezza che hanno i figli disonesti di questo mondo. Sia lodato Gesù Cristo.